Filippo Busina, buone notizie per il Veneto. Aspettavamo l'ultimo tassello di quello che avevamo chiesto, cioè che venisse dichiarato anche da parte del governo lo stato di emergenza per i comuni che sono stati colpiti dall'alluvione di gennaio e febbraio. Questo tassello è arrivato all'ultimo, comunque è stato firmato dal Consiglio dei Ministri proprio ieri e quindi adesso la sospensione degli obblighi tributari che valeva per i comuni del Modenese colpiti prima dal terremoto e dopo dall'alluvione è esteso anche ai comuni del Veneto colpiti dall'alluvione a gennaio e febbraio del 2014. Una vittoria direi della Lega, una nostra iniziativa che direi rivendichiamo con orgoglio. E una boccata di ossigeno per i cittadini e le imprese? Ed è una boccata d'ossigeno, ovviamente non ripiana i danni perché i danni superano i 500 milioni almeno dalle stime della Regione Veneto, però è un primo segnale di attenzione e un riconoscimento che i danni ci sono stati e i disagi sono stati molto forti.